Invecchiare bene è il desiderio di molti. Passano gli anni e pian piano si vanno accumulando acciacchi e malattie più o meno gravi. Di fronte all'inesorabilità del tempo, la ricerca scientifica ha però messo a punto parecchie azioni preventive che permettono una terza età in salute, serena e perché no felice. Due fattori decisivi sono l'attività fisica e l'alimentazione, che trovano in Active Age, un progetto europeo di Uninet1, un utile supporto. Tra gli obiettivi dei ricercatori, un'app rivolta agli over 65. Quello che risulta essere più efficace è lo stile di vita, l'alimentazione e l'esercizio fisico. L'esercizio fisico per molto tempo è stato considerato soltanto uno strumento in grado di tenere allenati i muscoli, di prevenire i danni articolari eccetera. Oggi sappiamo che invece ha un'azione sul cervello ben più importante. L'applicazione consente agli utenti di ottenere consigli utili, con contributi video realizzati da esperti, con esempi ed esercizi. Lo scopo è anche quello di arricchire la percezione di benessere, dando valore al proprio tempo libero. Un altro elemento fondamentale per invecchiare bene è la qualità del sonno, con l'accortezza di riposare almeno sette ore a notte. Possiamo trovare in quest'app sicuramente delle risorse in termini di approfondimenti tematici, in termini di testimonianze e anche di suggerimenti per attività al sostegno dell'invecchiamento attivo.